Cosa vi rispondi se ti dico Salgari? A che piano? La prima esperienza cinematografica col film Bianco di Babudui. La performance di Pino e gli anticorpi ha confermato la verve comica degli artisti sassaresi che dopo una lunga gaveta fatta di spettacoli nelle piazze da una decina d'anni sono nell'elite della comicità italiana. Uno spettacolo graffiante che utilizza tutti i registri per strappare un sorriso agli spettatori. Nella loro ultima fatica hanno proposto a Nuresi un ricommenù di piatti comici in cui hanno potuto mostrare il loro grande senso di rumorismo accompagnato da una comicità che spesso fa leva sui vizi e le virtù della società italiana sottolineandone gli eccessi e in molti casi il cinico. Una serata piacevole all'insegna del sorriso con l'offerta da Pino e gli anticorpi e Nuresi che ha riscosso il gradimento del pubblico.